In questo esperimento studiamo il funzionamento di una cella elettrolitica artigianale, verificando sperimentalmente che una soluzione di acqua e sale è conduttrice, cioè attraversata da corrente elettrica. Abbiamo bisogno di un becker pieno d'acqua distillata, sale da cucina, un led e fili elettrici, una pila da 4,5 volt. Colleghiamo i fili elettrici ai poli della batteria. Uniamo ora i morsetti. Il led si accende. Stacchiamo i due morsetti e immergiamoli in acqua. Il led resta spento. Ora buttiamo in acqua qualche pizzico di sale da cucina e mescoliamo bene. Immergiamo nuovamente nel becker i due morsetti. In questo caso il led si accende. Il sale da cucina, o cloruro di sodio, è un cristallo ionico. In questa forma la forza di attrazione tra gli ioni positivi e quelli negativi è così intensa da mantenerli fissi all'interno del reticolo cristallino. Quando sciogliamo uno di questi cristalli in acqua, l'acqua demolisce questa struttura ordinata e gli ioni diventano liberi di muoversi. Applicando una differenza di potenziale fra i due elettrodi immersi nella soluzione, all'interno del liquido si crea un campo elettrico e così gli ioni positivi migrano verso l'elettrodo negativo, mentre quelli negativi si spostano verso l'elettrodo positivo, chiudendo il circuito e facendo accendere il led.